Puoi spiegare la regola delle 24-48 ore in chat? Ok, ok, l'ho detta in una diretta, la regola delle 24-48 ore, quando non sai, lo scrivo anche io qua, quando non sai quanto aspettare per riscrivere, se non ha più risposto lei, aspetta sempre minimo 24, massimo 48 ore, ok? Questa è la regola, non meno di 24 perché sembra che sei lì attaccato al cellulare a aspettare la sua risposta e a volerla sentire, non più di 48 perché rischi poi di essere dimenticato dalla ragazza.